E adesso, siamo tutti a un altro grande artista, quindi per poi su un palco, Franco Tipoci! E' la chiesta dei Trani Stieda, passato più volte nell'Arena. Ci presenteranno il match world, creato da Fifth Beach, 4707, a continuare a Tremendini. Siamo in buc'arte! 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 Sì! Siamo in buc'arte! Siamo in buc'arte! Siamo in buc'arte! Siamo in buc'arte!